Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in this new video sul mio canale oggi siamo sul terzo episodio di Odison Chase Turbo perchè dobbiamo continuare perchè in questo gioco mi sta piacendo dobbiamo continuare di questa cazzo di serie allora ho abbassato un'altra parola le opzioni o me le ho abbassato anche le altre perchè ho visto che nei miei video non si sente tanto la mia voce si sente ma non tanto andiamo nella campagna andiamo a Wallet Row California ancora questo abbiamo fatto tutti no? si questo secondo e questo primo qua abbiamo rimediato secondo qua abbiamo fatto rimediato questa era la corte siamo arrivati i primi andiamo su Los Angeles Los Angeles allora io volevo comprare una macchina vabbè mi sono preso quella macchina non la volevo fare però mi sono preso quella macchina credo che quanto finisco sta storia mi comprerò il summer live però devo informarmi una su che cos'è perchè magari una cosa inutile non me la compro andiamo ragazzi se comincia questa non ha giocato ovviamente io gioco solo quando il regista quindi miglioro insieme a voi e la madonna c'è sotto che cazzo di macchina oh cosa ho fatto no no sbattere oh ma ragazzi ma sono una bestia questa mappa è cortissima tua nonna troia dai ok devo tirare il tuo blog che questo non ci ha levato le valli ecco oh merda no ne come no no non no 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 oh merda ragazzi mi sto rincoglionendo ecco no ragazzi a sto giro ho già fatto poco scichito dai ho ancora ho ancora tanti giri però tre giri per o due per rimediare settimo questo quinto lo sbattere lo sbattere non sbattere quarto due giri rimasti quindi giove ne erano tre dai cavolo terzo supero sto drogato si terzo potrei arrivare anche su primo se vogliono perché mi devo impegnare un po andiamo un giro di valente questo è l'ultimo giro dove cazzo si trova sto droghe allora uso il turbo che così lo vediamo subito mio primo signori potrebbe potrei prima partita della giornata prima primo episodio della giornata primo primo episodio primo episodio della giornata va bene un minuto e 51 quasi vabbè due minuti facciamo conferma diamo nell'altro ci prendiamo i soldini o non è un botto di ecco andiamo se facciamo avanti voi dicono se se riprovo e magari se riprovo tipo questa cosa è arrivato primo poi arrivo se magari arrivo secondo mi tiene sempre primo dove non me ne hai fatto un cazzo quindi io voglio assolutamente questa macchina mi ispira un botto a me questa no che colore di mi timo mi temo un gigus dai che andiamo spacchiamo tutto eccoci note degli angeli l'arrivo degli angeli dai dai andiamo partenza abbastanza buona anche perché questi li superiamo ora cheat cheat li superiamo ok no ah 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 dai andiamo dai usandolo tutti a 20.000 all'ora sua sorella tua ma che è sta cosa tua sorda sorda 4 giri 3 giri di masti wow wow è una mannaggia si è una mannaggia ma non si può non puoi sorpassare questa vape è troppo stretta non riesco a sorpassare no porca troia o merda per quanto non la prende si oh mio dio l'ho lisciato due giri di masti 6 6 No sto porco Dai 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 Quinto Devo superare quelli Se supero quelli Arrivo Almeno terzo Quarto Dai terzo buono Porca troia Si vabbè Arrivo Questo è l'ultimo giro Superato No 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 terzo Secondo vai Perché sono ancora terzo Forse perché erano già arrivati alla Alla cosa Alla bandiera Vabbè buono Terzo ragazzi Non è niente male Almeno Siamo arrivati nel podio Siamo arrivati nel podio Ok andiamo avanti Che è Ma che è Fammi capire Il chill Il style Vabbè raga Io lo chiamo style Non mi bestemmiate sopra Io volevo Non mi interessa Lo facciamo nel prossimo episodio Questo Apposta di continuare Nel prossimo episodio Nel prossimo episodio Apposta di continuare la storia Continuiamo Continuiamo Ok no dobbiamo finirci Prima questo Compresa La gare di potenziamento La valle della morte Diciamo Già la valle della morte Ci protesta Protesta Vabbè avete capito Andiamo Nella testa Gare Mi voglio finire Mi voglio finire Tutta California La macchina è ottima Prendiamo questa nera Che ci sta Mi sto annoiando Mi sto annoiando Raga Non so se potete giocare Io sto Con l'episodio Ciao Scherzo È il gioco più divertente Perché porca troia L'abbiamo mai Giocato Dai Oh E levete Oh 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 Mio Dio Cosa ho fatto Oh Mio Dio Oh Sono Nice Gas Oh Ci capisce Un cazzo Questa Monerina Eh Dio Casco Eh Dove Te ho rotto Le palle Mi riusciva Sto Verano Cazzo Bye See you Wise Pinguinto ok dai dai raga dai quarto 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 un brutto strozzo dobbiamo arrivare più forse non mi dico ok dai dai ragazzi e dai non visto il cazzo io potrei superarli di si bello Ma tua nonna Non ti scontrare Tua sorda Ma perché sono ancora tesso? Terzo, terzo raga Sono arrivato terzo, non ho niente male Ok Adesso finalmente Possiamo comprarci una nuova macchina E andiamo alla valle della morte Ecco raga Che minchia è? Hai concluso California Vabbè non l'ha concluso Non è andata sbloccata Non ci capito, però io voglio fare questa Sei giri, ma è minuscola Arriga Così è troppo bella Pure così non scherzo Usavola così Ah ma non ho visto le statistiche Beh dai, tanto è una nuova auto Usiamola Ok raga, raga dopo questo basta Poi Tanto dopo registra subito un altro episodio E lo facciamo E lo facciamo E lo facciamo Ci amo Adesso nella super Sto macchina è velocissima Guarda 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 che è sbandato apposta L'ho fatto apposta Sbandare Ma che la spreccia è un botto Ok dodicesimo Undicesimo Un seggirio da ora Dai undicenzo Dai Dai Ok Solo una decima Dai Dai No Sì vabbè dai Pu' funzionare Quinto E' ancora 3 giri disponibile Quarto Merda Quarto Perché non riesco a Terzo C'è un po' dove si fai così? Fai le curve da solo? Ah non è vero Dai Dai andiamo Questa lo devo dire Terzo signore Vole qua Io Io Ecco che abbiamo fatto anche 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 questo Il corpo Velocità Non posso lasciare questo Non posso lasciare questo Allora Raga Io te le ho 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 Sì Sì Poi magari Al prossimo Possibilità Che c'è Di Alla prossima Alla prossima Vabbè Avete capito Facciamo Word No Aspettate No Ecco Area giochi Nell'area giochi Nell'area giochi Se faccio così No Ma abbiamo tutto Abbiamo tutte le auto Abbiamo Non è vero Queste sono altre auto Queste sono proprio altre auto Ma che Non lo sto capendo Ah Ognuno ha la sua auto Figata Tipo questo È Quello che Abbiamo Va bene Va bene Niente di che Tornei Dilettante Fissa di sorda Facciamo San Francisco Aumentano tutti Cosa dobbiamo fare Gara No raga Ci vediamo nel prossimo episodio Perché comunque Quattro gare Devo fare Quattro gare Quattro gare Ci vediamo nel prossimo episodio Iscrivetevi Lasciate il like Condividete il video E ciao Ci vediamo Non domani Dopo Con un altro episodio Su Arizo Chase Turbo Ciao ciao